Altri 90 minuti da dentro o fuori per il Pescara. Stavolta però, al contrario di quanto accaduto nei primi due turni di play-off, saranno i biancazzurri di Luciano Zauri a giocare in trasferta e ad avere un solo risultato a disposizione, la vittoria. Colpa del 3-3 della gara d'andata, un risultato che però, alla luce dell'andamento del match di domenica scorsa, deve essere ben accetto perché una vittoria dei Leoni del Garda con due reti di scarto, ad un certo punto si era sull'1-3, avrebbe chiamato il Pescara ad una impresa disperata. Resta però la difficoltà del match, visto che allo stadio Lino Turina la Feralpi in campionato ha conquistato 39 dei 69 punti in classifica ed ha perso appena due volte col Fiorenzuola alla prima giornata, 1-2, e 0-3 con la Provercelli lo scorso 16 febbraio. Le buone notizie per Zauri sono che la corte sportiva ad appello ha ridotto la squalifica di Dursi, che sarà in campo dal primo minuto in attacco con Cernigoi e uno tra Rauti e Clemenza. E poi la disponibilità di Delle Monache e il rientro di Frascatore, che comunque partirà dalla panchina. Il tecnico di Pescina non abbandona il 4-3-3. La grande novità potrebbe essere tra i pali, con l'impiego del più esperto Iacobucci al posto di Sorrentino, con ferme per la linea di difesa, Zappella, Ilanes, Ingrosso e Enzita, in mezzo i tre superstiti, Dianbo, Memuschai e Pontisso, viste le pesanti assenze per squalifica di Pompetti e Delisio, che si aggiungono a quella dell'infortunato Drudi. Il chiaro è che la selezione di squalificati ci priva di alcune alternative, anche a livello numerico, dove ovviamente abbiamo meno scelta. Ma detto questo, andiamo in campo con una formazione tosta, che ha voglia di fare una grande partita, una grande impresa, per poter continuare questi play-off. Abbiamo tutte le armi per poter vincere. I ragazzi stanno bene, hanno voglia di fare una grande partita, quindi siamo pronti, siamo preparati per fare appunto bene. Sul fronte Ferral Pisaloi il tecnico Vecchi ha annunciato qualche novità, ma senza stravolgere l'undici che ha fatto bene all'Adriatico. Incognita tra i pali, De Lucia, malconcio alla spalla dopo il contrasto in occasione della rete del 3-3, è convocato, ma non è al massimo, decisione in extremis, nel caso pronto il dodicesimo Liverani. Davanti, difficile rinunciare a Di Molfetta, mentre Miracoli potrebbe prendere il posto di Spagnoli. Su come impostare la partita, Vecchi ha pochi dubbi. No, non siamo capaci di gestire partite noi, quindi dobbiamo andare in campo a cercare di fare il meglio e il massimo. Abbiamo visto che ce la possiamo giocare alla grande, avevamo chiaramente qualche curiosità sul fatto di quanto poteva essere forte il Pescara. Abbiamo dimostrato di essere al loro livello tranquillamente, per cui dobbiamo giocare la nostra partita consapevoli che abbiamo sì due risultati su tre, ma che sarà comunque una partita complicata, perché il potenziale offensivo del Pescara l'abbiamo già provato l'altro giorno. Quindi dovremmo essere un po' più attenti e un po' più solidi rispetto a quello che si è visto a Pescara, anche se siamo stati molto belli. Direzione di gara affidata all'esperto Marco Acanfora di Castellamare di Stabia, quinto anno in Canci. Nessuno precedente con il Pescara, ben cinque con la Ferralpi Salò, che però non ha un bilancio favorevole, una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, di cui una al Turina con l'Albino Leffe nel novembre 2017. Grazie a tutti.